nino nino apri è ufficiale devo licenziare la scorta che vuol dire che sono fuori dall'operazione non ci sono molte chiavi di lettura vuol dire che stai fuori dall'operazione ma quando la smetti di decidere per me dina per favore calmati leo mi chiamo leo almeno questo lo fai decidere a me cazzo mi danno l'operazione della vita e tu me la fai togliere operazione della vita un trasloco era leonarda perché così ti chiami tu ma da quando un magistrato interferisce nelle decisioni di un colonnello del rosso glielo ho chiesto io come un favore personale questo è un atteggiamento mafioso lo sai sì disse quella che si fece raccomandare dal fratello per entrare nell'arma ma chi te l'ha chiesto anche questo l'hai deciso tu perché era una panca bestia di merda tossica era questo il problema più che altro perché sono una donna oh cristo santissimo perché una donna vale meno di un uomo in un'operazione militare vero sì ma non è questo il punto maschilista paternalista egocentrico di merda ho anche dei difetti ti sei sfogata ora siediti e ascolta che abbiamo poco tempo